È nato nel 2020, in un momento in cui avevamo veramente bisogno di condivisione e di uno spazio verde in cui ritrovarci. Musica, arte, spazi e laboratori da condividere. Tutto questo è Lo Stabile, un intero edificio nel quartiere Libertà in cui far rifiorire la propria creatività in un clima di assoluta condivisione. Lo Stabile diventa il luogo ideale per trasformare ogni idea in un progetto concreto, ma anche uno spazio per offrire un ambiente lavorativo accogliente e professionale, perfetto per riunioni di piccoli gruppi o sessioni di lavoro part-time. Tra i servizi è anche una stampante 3D per tradurre un'idea progettuale in un elemento concreto, un arredamento sostenibile, tutto autoprodotto in un'attrezzatissima falegnameria per poter dare al quartiere un esempio di riqualificazione urbana. Lo Stabile, dove si fondono livelli differenti come il co-living e il terrazzo urbano, è ubicato in un palazzo unico nel suo genere, restaurato riportando a nuovo anche le antiche cementine. Lo Stabile nasce proprio con l'intento di, non solo di rigenerazione urbana in un quartiere come Libertà, ma come spazio ibrido che sicuramente ospita più realtà. Una di queste è appunto l'orto sociale, quindi il nostro terrazzo, quindi il terzo piano del nostro stabile, ospiterà un orto sociale, oltre che chiaramente a un giardino urbano che vogliamo condividere, aprire non solo al quartiere ma a tutta la città di Bari. Ci sono state delle performance artistiche, delle performance musicali, e chiaramente siamo sempre aperti a nuovi progetti, anzi chiaramente vogliamo che ci facciano proposte in modo tale che si possa continuare ad ospitare questa tipologia di eventi.